Scarcerato venerdì pomeriggio e di nuovo arrestato ieri, stavolta a Genova, il campione delle truffe, il 55enne pugliese Stefano Ramunni, era stato rimesso in libertà insieme al suo complice dopo tre mesi di reclusione a Santa Bona su decisione del GIP trevigiano Angelo Mascolo, salito a più riprese alle cronache negli ultimi mesi sia giudiziarie che politiche. Erano finiti in cela a gennaio per sostituzione di persone e falsità materiali a Vedelago, solo uno dei tanti raggiri messi in piedi visto che il 55enne è arrivato anche a fingersi un funzionario del Vaticano con tanto di immunità diplomatica, al punto che di Ramunni si è occupata anche la trasmissione Le Iene. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato la storia del più grande truffatore d'Italia, Stefano Ramunni, un uomo dalle mille identità specializzato in truffa alle banche, ma che è riuscito a truffare pure il suo avvocato, sua sorella, i suoi amici, il suo complice. Vittime più o meno illustri come l'ex sindaco di Mira, oggi deputato del Movimento 5 Stelle, Alvise Maniero, a cui ha tentato di rubare l'identità digitale, venendo scoperto grazie a un alert. Avevo individuato e segnalato la persona, il fatto, il tentativo di furto d'identità, sia i carabinieri che la polizia postale, che i servizi ai cui avevo cercato di introdursi con la mia identità. Poche ore dopo avevo già a disposizione il tipo di documento usato dalla persona, il suo aspetto, dove fosse, a che ora fosse, insomma, quindi ho potuto anche fornire all'autorità tutti gli elementi utili. L'avvocato di Ramunni, il trevigiano Fabio Crea, aveva ottenuto per lui l'obbligo di dimora a Milano e quindi la scarcerazione. Obbligo disatteso, trovandosi lui ieri a Genova, intercettato e seguito dalle Iene, con il risultato che ora la procura, da sempre contraria alla scarcerazione, chiederà un inasprimento della misura.